Queda Livre, yeah, un giorno meraviglioso, oggi è sabato, io mi chiamo Alessandro e io sto con una mia amica, una mia amica che si chiama Aline, lei, tutto bene, tutto bene, tutto bene, Alessandro, prazer, allora Aline, você è pronta per saltar? Medo, nervos, veridade, veridade, che non tiene nervos, vediamo la mano, ok, agora fanno la prova da Queda Livre, questo è un simulador, Grazie a tutti! Aline, e ora, você è pronto per saltar? Vamos? Vontato! Buca fresca! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.